Restano gravi le condizioni dell'operaio rimasto schiacciato tra un camion e alcune travi ieri a limiti di soliera. Si tratta del secondo infortunio sul lavoro nel giro di pochi giorni in provincia dopo quello di martedì 4 luglio in un cantiere edile di Gaggio in piano dovuto alla caduta di un operaio da tre metri di altezza. La CGL torna a denunciare la carenza negli interventi del governo definendo quello della sicurezza sul lavoro un tema completamente sparito dall'agenda politica nonostante continui a morire una media di tre lavoratori al giorno tra le richieste del sindacato oltre a investimenti in educazione e sicurezza anche la modifica dell'ultimo codice degli appalti affinché rimetta al centro il tema proprio della sicurezza.